Ecco, vedi, dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto quello che ho creato, la gente vive ancora come se io non esistessi. Certo, essere invisibile sicuramente alimenta questa sua sensazione di sentirsi incompreso. Eh, ma non è quello, sa, perché non è che proprio mi ignorano, è che a volte sappiano proprio con me, cioè sia se succede una catastrofe che se sbattono il mignolo sul comodino. Beh, essersi dichiarato onnipotente e onnisciente sicuramente incentiva le sue creature ad inquadrarla come responsabile di quello che accade loro, è normale? Sì, vabbè, è ovvio, so Dio, ma io non è che posso via tutti per mano, eh. Io di solito non intervengo, non sarebbe corretto, ecco. Beh, dunque lei si limita ad osservare. Ha creato questo universo con le sue regole, questo mondo con i suoi abitanti, ma non si adopera nel caso la vita di questi venga messa in pericolo. Non si prodiga per la loro gioia, né evita il loro dolore, dico bene? Beh, detto così pare brutto, eh. No, io diciamo che qualcosa la faccio, magari a chi so merita, dipende se uno mi prega tanto tanto o me è particolarmente devoto. Poi certo, dipende ovviamente anche da quello che sto a fare a quel momento, non è che esaudisco tutte le preghiere, mica sorgendo da lampada, eh, è namo. Comunque, ogni tanto levo miracolosamente qualche tumore, evito che qualcuno ce lascia le penne in qualche incidente mortale, cose così. E mi dica, perché lei fa queste cose, diciamo questi interventi post-trauma, quando le basterebbe intervenire preventivamente? Magari non facendolo venire il tumore, o evitandolo proprio l'incidente. Eh sì, certo, poi quando si accorgono che io ho fatto il miracolo? Quando mi ringraziano poi? Capisco, capisco. Che c'è tutto? Che sta a scrivere? Che c'ho? Ha scoperto il problema, c'ho qualche trama, so depresso. Tranquillo, niente di tutto questo. E allora che c'ho? Perché mi sento così frustrato? Perché lei è uno stronzo narcisista. Che palle, mi tocca cambiare un'altra volta a psicologo. Grazie.